Per comprendere il clima attuale e le anomalie che ogni giorno viviamo abbiamo bisogno di conoscere il clima del passato. Le tele dei pittori fiamminghi di 400-500 anni fa ci mostrano infatti un'Europa glaciale con degli inverni lunghissimi, gelidi e anche la fotografia quando arriva ci darà queste informazioni per l'inverno italiano a fine 800 con situazioni ben diverse da quella a cui siamo abituati ora. Ora questo è il parco del Valentino a Torino nel 1891 con le persone che sono a pattinare su un laghetto naturale ghiacciato con il freddo dell'inverno. Oggi a Torino se volete pattinare bisogna ricorrere a un frigorifero e una pista artificiale perché gli inverni si sono riscaldati. Queste immagini di piste da sci innevate soltanto con la neve programmata sono sempre più frequenti nei nostri inverni. Ma sono confermate dai dati misurati, cioè tutto quel complesso di osservazioni meteorologiche che a partire dalla metà dell'Ottocento diventa disponibile su tutto il globo. Da questo possiamo vedere come la temperatura sia cresciuta ormai di circa un grado negli ultimi 150 anni. Se guardiamo i dati delle stati e qui siamo in Italia con una lunga serie di riferimento che è la serie della città di Torino che comincia nel 1753, più di due secoli e mezzo di dati, vediamo come per lungo tempo le stati hanno oscillato tra temperature un po' più alte e un po' più basse ma non ci sono state grandi tendenze. Rimane costante grossomodo fino agli anni Ottanta e poi comincia a salire e ci mostra un dato assolutamente per ora ineguagliato che è la caldissima estate del 2003 e poi una sequenza di estati tutte più calde della media con questo pallino che l'ultima estate è appena concluso. L'estate 2017 è stata la seconda più calda della storia in Italia, portando con sé tutta una serie di problematiche, inclusa la siccità che associata al caldo ha portato ai danni all'agricoltura, alla crisi idrica di Roma e se vogliamo andare ancora più indietro quando non ci sono dati misurati abbiamo i ghiacciai che sono un po' dei testimoni muti, cioè possiamo dire delle stazioni meteorologiche naturali. Il caldo dell'estate riduce notevolmente, qui vediamo un'immagine di un ghiacciaio del gruppo del Monte Bianco, il ghiacciaio di Predebar tratta da una litografia antica del 1820, guardate come è ridotto oggi, è un ghiacciaio che è a retratto di quasi un chilometro rispetto all'immagine ottocentesca e ha liberato tutta questa zona che oggi non contiene più ghiaccio, insomma è una grande pietraia. Allora vediamo il futuro, che cosa ci aspetta? Grazie ai modelli di simulazione al computer possiamo verificare che cosa capiterà a seconda dei nostri comportamenti. Queste indicazioni sono poi state trasferite alla politica e hanno portato al famoso Accordo di Parigi che è stato firmato nel dicembre del 2015. Questa è la simulazione del clima del futuro, il clima che deve ancora venire, in base ai nostri comportamenti. Ci sono due linee, una è quella rossa e l'altra è quella azzurra. La rossa è la linea di un'economia lasciata a se stessa, che pensa soltanto a bruciare, a crescere, a fare profitti indipendentemente dal danno ambientale. Il risultato potrebbe essere un riscaldamento fino a circa 5 gradi in più al 2100, quindi qualcosa che è già in corso ma che andrà a peggiorare moltissimo le condizioni di vita soprattutto dei nostri figli e dei nostri nipoti. Per questo motivo la politica internazionale a Parigi nel 2015 ha detto no, non possiamo permetterci un rischio di questo genere, dobbiamo rimanere su un aumento molto più contenuto, la linea azzurra, circa 2 gradi in più entro il 2100. Notate che non possiamo più guarire la malattia, dovevamo pensarci più di 40 anni fa. Non l'abbiamo fatto e questo vuol dire che una parte di malanno ormai è incurabile, 2 gradi, ma sempre meglio 2 gradi che 5. Ebbene, dopo l'accordo di Parigi però abbiamo avuto la defezione di Trump, che ha deciso che secondo lui i cambiamenti climatici sono tutte bufale, non esistono, che invece dobbiamo rilanciare l'economia attraverso il carbone e il petrolio, e notizia di pochi giorni fa che Trump, forse dopo gli uragani del Golfo del Messico, ci sta ripensando, vedremo. Il problema è che non abbiamo tempo. Le decisioni per rimanere nella linea azzurra, che è quella più favorevole al nostro futuro, devono essere prese entro i prossimi massimo 5-10 anni. Qual è la cura? La cura un po' tutti noi ormai la sappiamo, ed è una cura di sobrietà energetica, di efficienza, di risparmio e di transizione alle nuove tecnologie senza uso di combustibili fossili. Quindi dai pannelli solari, le paleoliche, i doppi vetri alle finestre nelle vostre case, le automobili elettriche, e poi comprare meno oggetti inutili e fare meno rifiuti. Tutte cose che ormai sappiamo, ma che purtroppo non rappresentano mai la priorità della politica. Ed è per questo motivo che per ora continuiamo a essere lanciati purtroppo sulla riga rossa dei 5 gradi. Avanti, è urgente prendere provvedimenti.